Ho inserito una carica esplosiva nella tua testa. Cosa vuoi? Ho io una domanda per te. Cos'è Iagate? Che sei? Hai capito finalmente. Hai pensato che ti credevo più... svelto. No! Ponterò fino a dieci e tu mi dirai cos'è Iagate. Uno, due... Ale, Ale, ascoltami. Guardami negli occhi. Andrà tutto bene. Hai capito? Andrà tutto bene. Ti porterò il concerto dei Maneskin, come ti avevo promesso. Tre cos'è Iagate? Non lo so, non lo so! Pensi che io voglia giocare? Quattro! Metti giù quell'ottimo detersivo per piatti, alternativa più che valida a quello che abbiamo usato settimana scorsa, adesso sono... Cinque, sei... No! Non lascia andare! Sette! Io lo amo! Sei ubriaco, cosa stai dicendo? Sette! Sì, ma cosa succede a dieci? Otto! Ok, ascoltami attentamente. Io posso aiutarti. Dimmi qualsiasi cosa e te la farò avere. Nove. Cos'è Iagate? Non lo so! Non so cosa sia, non lo so! Dieci. No! Oggi è lunedì e allora... Iagate! Per tutti. Iagate! Sono arrivati 350.000 messaggi di guarda cosa ha fatto questo genio. Anche 500.000. A quanto pare qualcuno quest'anno ha deciso di autodistruggere una sua opera durante un'asta. Bansky. Che poi io pensavo si scrivesse Bansky. Oggi, invece si scrive Bansky. Nenche io sapevo come si scrivesse. Facciamo anche servizio pubblico. Però ha fatto una genialata per molti e una cagata per tanti. Ovvero ha tritato una sua opera, che era all'asta. Battuta per quanto vale un milione? Un milione e due centomila euro. Cioè, appena è stata vinta, la cornice ha tritato l'opera. Io ho solo una domanda per Bansky. Ma che batteria aveva questa cornice? Voglio dire che sei troppo complottista. Perché ciò che rimane alla fine è che ora quest'opera rotta vale anche di più. Bravo Bansky. Bravo Bansky, ma l'ha preparata il giorno prima. Questo sto dicendo io. Adesso l'opera vale di più. Ma quindi c'è... Al bene il doppio, si dice. Ma quindi ha fatto arte e ha fatto soldi? Cioè, questo... Ha fatto entrambe le cose. E allora... Questo è un vero artista. Spacchiamo il tavolo e lo vendiamo. Facciamo soldi anche noi. Charlie Chaplin, non sei nessuno. Chi è il grande dittatore adesso? Senti, fatti! Ma cosa? Eh, ho paura. Scopriamo nei prossimi Yagate se la sua vita cambierà. Yagate è anche esperimento. Fattiamo la sfiga. Questo è da anni che volevo fare questa cosa. Allora ragazzi, dopo tutta questa distruzione vi sentite più artisti? Io volevo sentire più ricco, visto che stavamo spaccando... L'idea a quella. Anzi adesso parte l'asta, no? Dovete distruggere una vostra opera, come Bansky ha distrutto una sua. La nostra opera a tutti riferisci alla nostra opera magna. Allora, distruggiamo il nostro, però leggiamo una poesia di Giuseppe Gallo. Rabbia di Giuseppe Gallo. Legge Alessio Stigliano, distrugge Alessandro Tenaccia. Esploderò di rabbia quando ti vedrò con lui. E chi era un indicato? Scusa, avevo detto una etica. Sofia Viscardi. Ah, Sofia, grande! Esploderò di rabbia e mi sentirò bruciare dentro. Riempirò il vuoto della tua assenza con la mia rabbia. Lascerò che mi travolga e affogherò in essa. Mi lascerò andare, sprofonderò e forse non avrò più la forza per uscirne. Fine. Ho i brividi. Ho i brividi. Se hai lasciato un like, distruggo il microfono. L'hai lasciato? No, no, dai, non facciamolo perché mi dispiace. Dobbiamo fare tutto l'altro i agate. Sì, no, veramente. Abba giù della nonna da Euro 9 a Euro 988. Globo terrestre plastificato da Euro 12 a Euro 12609,99. Gatto tradizionale asiatico da Euro 13 a Euro 280 mila. Fallo da Euro 14,36 a Euro 1 milione e 200 mila. Nano dei sette da Euro 7 a Euro 7,70. Libro Giuseppe Gallo, valore inestimabile. Microfono rotto, asta aperta ora su eBay. Cerca il link in descrizione. La festa che tutta Italia attende, Halloween. Non lo so, lo so, infatti, però, è ancora più vicina. Continuate a inviarci video in cui spaventate i vostri cari, parenti, amici. Alla mail che appare in sovraimpressione. Mi raccomando, ho due regoline che bisogna sempre ricordarsi. Video in orizzontale, mi raccomando. Spaventate i vostri cari, amici, parenti. Poco, ma è riuscito. Usando una maschera di Halloween, se deve essere a tema. Undici? Undici? È la prima volta che è per me. Di solito non minaccio le persone. Ok, allora liberalo. Va bene. Grazie. Pensavo di essere zitto tutto lo sketch. Invece anche io ho un po' di battute. Ho studiato anche io recitazione come vuoi. Sono pronto perché... Allora, praticamente, tu fai... Comunque... Dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassetti... No! Ti prego, ti dirò tutto quello che vuoi sapere. Che senso ha, Iagate? 18. Domanda di riserva? 19. Non lo so! 20. Ohعمm. Detto Iagato. La vostra nuova rubrica preferita perché è talmente rivoluzionaria che voi ci scrivete cosa fare nei commenti e noi lo facciamo qui a Iagate. Anche se arrivano dei commenti poco intelligenti tipo questo Perché non iniziate la prossima puntata Truccati da donne E ora ci trucchiamo Anche se ne avete già visto all'inizio del video Ora ci truccheremo L'hanno già visto perché c'è una cosa magica che si chiama montaggio 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 Che useremo ancora una volta adesso per far apparire chi ci truccherà E' K4U Ciao 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 Montaggio Siate clementi con noi Porco Cazzo Un gatto che ti fa la danza del latte Presente? C'è una cosa magica Alessio Sei pronto a vedere la nuova te? No Non fatelo Siete inquietanti Brava Vi assicuro che dal vivo è bellissimo ragazzi Veramente ho avuto anche Mamma mia Alessandro Sei pronto a vedere la nuova te? Si Rinata Montaggio E non dimenticatevi di andare sul canale delle K4U Perché loro hanno truccato noi Ma noi precedentemente avevamo truccato loro E non così come le vedete Ecco Io a Leo ho fatto un trucco Glemo Ragazzi questo è il capolavoro che sono riuscito a creare Ma perché sono così preoccupata? No 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 Non puoi Non puoi Non è il momento Non è il momento No Ti ho detto di no Fidati di me Stiamo No Stai f... Non farlo Non farmi arrabbiare Sono molto arrabbiato Stai caldo No Estremamente arrabbiato ora Sei pirla Era per lanciare il video di mercoledì Mi sono arrabbiato per primo Ho capito però Video Sei bravo No Non mi devi toccare No non la tocco Io sono parte di lei Capisce Non mi devi toccare Mi devi star lontano Come avete visto nel video abbiamo interrotto le persone durante la loro vita quotidiana A fare la spesa e altre scene Ma non perché siamo dei disturbatori veri e propri Ma c'è un fine nobile che scoprirete a fine video di mercoledì E invece venerdì torna il carolale con le sue interviste Te l'omare e te lo chiedo La prima puntata è andata alla grande In questa puntata Te l'omare e te lo faccio vedere adesso Te l'omare e te lo chiedo Lei consiglierebbe a degli immigrati in partenza di portarsi delle salviette al limone per il viaggio? Ma che c***o di domande fai? Tra poco scoprirai come va a finire l'intro Che nel frattempo è diventato un intermezzo E che si appresta a diventare un finale Questa è arte Soprattutto noi che fingiamo di essere in tv Dove non puoi mandare avanti il video e scoprire subito come va a finire la storia Momento pacchi Momento sempre bello e divertente Ricordiamo l'indirizzo Ale Tocca a me stavolta Vai dai Allora All'attenzione dei The Show Sono un po' teso adesso Dai facile All'attenzione dei The Show Massa di Leoni Via Stresa 6 20125 Milano Italio Da oggi non si chiamerà più momento pacchi ma momento all'attenzione dei The Show All'attenzione dei The Show Mi piace Da Roma Martina In realtà è un pacco dentro Un altro pacco Ciao The Show Siete troppo fighi Grazie Consigliamo un buono pulista Martina Questa è la scimm... Madonna è Satana E ci ha fatto lo scherzo di Halloween Ragazzi ma è la scimmia di Satana A parte da suonare il microfono Ma poi ha la testa al contrario Tipo l'esorcista Invece questo ce lo manda Paolo Da Barletta Meh Barletta Quasi paesani The Show Due sposini bellissimi Ricordo quel giorno come fosse ieri Tutte quelle persone emozionate Mentre Ale baciava Ale Ma non dicevo mai baciati E' già fino qui E' arrivato il momento di scartare i miei regali Puoi mai mancare la foto del vostro matrimonio nella nuova casa? E' talmente bello che è inquietante C'è fatto bene Il matrimonio dell'anno 1508 2018 Guardate ragazzi Grazie Paolo Stupendo Grazie Paolo Paolo davvero per una coppia Ci dovremmo emozionare Io gottè Ma sei pirla Mi hai metto i pantaloni Ma dai Vieni via dai Vieni via che sembra che mi sono fatto la vibria addosso Guarda cosa ti sembra Cosa sembra a te Tu che stai riprendendo Cosa ti sembra Ehm Pipì Eh Posso andare in giro che sembra un incontinente Un'immagine da rispettare Da mandare avanti Dai Ma che schifo C'è un mostro Ecco cosa sei Allora che rapinatore 71 72 73 Aspetta un attimo Qual era la domanda 74 75 76 77 78 78 70 70 70 Ah ti ho fregato Ray Ray Libero Libero Via 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 Mzzetto Zitti tutti Adesso perdo la pazienza Un'ultima volta Cosa E Iagate Oggi è lunedì E allora Iagate L'abbiamo fermato Sì ma Abbiamo fatto un intro della madonna Vuol dire C'era un certo pathos Delle pause Un ritmo Incalzante La recitazione era abbastanza Alta Cioè non capisco Cioè perché l'abbiamo diviso in tre parti Ciao ragazzi Oggi abbiamo imparato la tecnica di scrittura cinematografica del McGuffey Molto utilizzato da Hitchcock Con il vocabolo McGuffey Si identifica il mezzo con il quale si crea dinamicità nella trama di un film Un qualcosa che per i protagonisti del film ha un'importanza cruciale Attorno alla quale si crea enfasi e si svolge l'azione Ma che non possiede un vero significato per lo spettatore Ad esempio come Iagate? Bravo Sveglio ragazzi Esatto Sveglio ragazzi